Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Oggi ragazzi ovviamente noi siamo live reaction Siamo tornati dopo due settimane di pausa, una e mezza Vabbè, c'è stata la pausa e niente, si torna a Roma Genua Qua in alto è il post partita di ieri dell'ESC La partita sta per cominciare, lasciate un bel like regà Anche un bel commento sulla partita Ci servono tre punti ovviamente come sempre Oggi ancora di più Speriamo bene, incrociamo le dita ma dobbiamo vincere In ogni modo proprio, bisogna vincere e basta Poi martedì o mercoledì manco mi ricordo Occhio all'interno, esatto, martedì Dai che se comincia, dai questi tre punti Solo quello è l'obiettivo, dai Provo Anico Bellissimo Bell'azione cavolo Peccato Peccato Bravissimo Zagnolo che palla un po' di gioco The Knights Ottimo sviluppo dalla Roma Che Mkhitaryan Zagnolo Provo a partire ancora Si ferma Bravo Dai che stavo ingranata Dai così, va bene Costruirsi Da zona Borco di Portugese Bellano Cris Cris Era pure buono Era buonissimo Era probabilmente muovere il castello Togliere i giocatori alti nella zona Nell'area piccola Per poi sviluppata come hanno fatto Era perfetto Era perfetto Non solo buscalla dentro Che caso Noo Nico Nego Porto 2 Dai E dai Che bella palla Colpita malissimo Nego Dai regà Mezz'ora per farne uno Mezz'ora per vincere Bella Noo 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 Servete Nia Cavolo Raggiè M'ha fatto commentare 60 precedenti Ancora una volta Bellissimo Il servizio L'esperimento di Felix Caccia anche bene Ma non trovo la porta E quindi Vicky Italian Guarda il taglio di Felix Va col sinistro Noo Ma tirano in porta Tirano in porta Di me Sempre presente Riesce Ma In fase offensiva Genova Ma che paura Stavversi Da regà Va vinto Per forza Che paura Poi era partito Benissimo Mighi E fai sto tiro Pocca Miseria Non ci credo Non ci credo Ostica Che cacchio sei Non ci credo Che ha preso Ma guarda Che ha preso Ma guarda Che ha preso Ma che ho fatto E' stregata Oggi Dai Famo su corner Vi prego Anticipato Mancini Smalling Prova a rimettere dentro Da valutare la posizione di Ebram Ovviamente Il giusto punto di battuta Adesso Cristante E C'era Prova di prima Ma per la velocità di felice Assorbita dalla posizione di Osticard Poi felice Chiedemi da giallo Stava andando a porta E rosso Volevo dire Ti aveva superato Pelato del cavolo Aveva superato Eri ultimo uomo Il rimbalzo Il rimbalzo l'ho mandato in confusione Il rimbalzo Bravo Pelix Però tocca segnare Alprimenti Minutio Regolarissimo Tu forzata Il difensore Sembrava in anticipo Ha fatto rimbalzare Ah oh Sei l'ultimo uomo Se devi solo che sta zitto E vai tutta la doccia L'ha preso pure per collo Guarda che roba Manco lo sgambetto Io vodava L'ha preso per collo Sto schifoso Ma sembrava Aveva chiara Sto schifoso Dai sotto la doccia E muoverò Tocca vincela Colpito Tocca vincela Per forza Vedo che ci possa stare E andare a una battuta tradizionale Occhio Tra danno Pure la beffa No magari Cosa Amiri Con il vittoriano Anticipato sul primo palo Poi Dopo i testi in tuffo Da parte di Bagnes E soprattutto la possibilità Di controvere per la Roma Cavalca Stefano e Ciarawi Lo scorta Fenix Prova ad arbitrare E Ciarawi Manca il momento Della conclusione Svilanciato forse Anche da Armazola Altra occasione Per la Roma Ciarawi Pensa di aver subito Ha fatto tutto bene Ha portato la palla Per 30-40 metri Passato in mezzo Due giocatori E non Zamiolo Incastrarsi Nel punto E preparato la Gemma Michi Carriano E lo trova Da centramanti Zamiolo Cerca di girarsi Va sul sinistro Ma deve uscire Dalla Venebora Si apre comunque la strada Zamiolo 90 minuti 90 minuti 90 minuti 90 minuti E io E io Ha giocato E l'ha voluto Questo gol Poteva allargare Il gioco È stato bravissimo Di freddo la palla Se è golla Nicolò, finalmente, 90 minuti di sofferenza. Ci sono partite come a Bergamo dove entra tutto, dove siamo finici e completi, partite in cui non entra in nessun modo. Il possibile fallo in attacco. Rivediamo. Qua Vasquez ferma in contrasto a Ebram. No, come va? Come va? Sì, il difensore con la punta intercetta il pallone, poi probabilmente c'è il contatto, però onestamente... E poi non possiamo rivedere bene l'immagine con il direttore di gara, lo facciamo da questa visuale. Vasquez a terra, Zaniello che difende pallone, ma è questo l'episodio? La rivista Abisso. Ma non lo dò, c'è! Ma non lo dò, c'è! Ma non lo dò, c'è! Annullato che schifo!